Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla protesta in atto a Niscemi da parte del sindaco Francesco Larosa non alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Suor Cecilia Basarocco decisa dalla Regione nell'ambito del riordino della rete ospedaliera. La chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Suor Cecilia Basarocco, un grave atto di responsabilità umana e politica della Regione. Non usa mezzi termini dal sindaco di Niscemi Francesco Larosa che da ieri ha ripreso il presidio ad oltranza all'ingresso della struttura ospedaliera. Una protesta al fine di salvaguardare e tutelare il pronto soccorso per dire no al piano di riordino della rete ospedaliera della Regione. Una protesta pacifica al momento. La presa in giro non sta bene e non va bene a nessuno. Noi avevamo avuto da parte dell'assessore alcune garanzie, vengono meno, ci siamo fermati, però se c'è l'esigenza di continuare adesso andremo avanti ad oltranza. Poi vediamo fino a che punto è pacifico, visto che mi pare il frutto di un'insolazione di fine estate, perché qualcuno finita l'estate ha intenzione di stravolgere la sanità in Sicilia. Il problema non è Niscemi, il problema è la sanità siciliana e non mi voglio ergere ad essere il paladino della salute e della sanità in Sicilia, però Dio mio, di cosa state parlando? La salute non va comparata con i numeri, la salute va comparata con tutt'altre cose, la salute non è un bene negoziabile, la salute è quello che oggi contraddistingue da una civiltà che è evoluta e una civiltà che va verso l'involuzione. Se noi dovremmo andare verso l'involuzione, come ha deciso il governo, la regione, che in questo momento amministra, ha sbagliato strada, qua si vuole ritornare indietro di migliaia di anni, vogliono riportare alle grosse stazioni, non le voglio chiamare più nemmeno città, nemmeno aree metropolitane, dove tutto è consentito, dove ci stanno i servizi. Mentre da noi iniziamo dal giudice di pace, poi iniziamo dall'ufficio del lavoro, poi si va avanti con il reparto di ostetricia, di medicina, di chirurgia, andiamo avanti con tutto. Adesso ci volete togliere anche il pronto soccorso, vedete, questo non è possibile, non è praticabile, toglietelo dalla testa, andate a curarvi se avete qualche problema, perché il problema sarà affrontato in modo diverso questa volta. Vanno dei problemi qui a Niscemini a tanti, dal MOS all'ospedale, alle strade interrotte, alla mancanza d'acqua? Sì, i problemi ci stanno, vanno affrontati, quando si parla di un problema di viabilità si può anche intervenire, ci stanno i tempi, i modi. Quando si parla di MOS fino ad ora ci siamo nuovamente ricostituiti, perso CGA, la Cassazione, possiamo andare avanti con le querelle, ma sulla vita delle persone penso che tempo da perdere non ce n'è. Noi vogliamo semplicemente essere assicurati da parte del governo regionale che quello che si è detto sia quasi una bufala oppure un intervento fuori luogo. E a questo mi rivolgo a chi in questo momento amministra, chi in questo momento si fa garante della nostra Costituzione, si fa garante della cittadinanza italiana, si fa garante di quello che deve essere la struttura Italia. Se questo è il modo per iniziare, iniziamo dalle periferie, che Dio ci guardi di quello che succederà nelle centralità. Il Presidente del Consiglio Comunale di Gela, Alessandra Acia, ha scritto al Sindaco Domenico Messinesi per chiedere se il Comune si è costituito parte civile nel processo penale per disastro ambientale o se lo farà in occasione della prossima udienza. Sono stati i capigruppo nel corso della conferenza del 7 settembre scorso ad avanzare la necessità di conoscere il contenuto della Costituzione di parte civile, le eventuali pretese avanzate in termini risarcitori finalizzati all'adozione di misure di ripristino ambientale. I capigruppo hanno chiesto di conoscere il nome del difensore che rappresenta il Comune e la cifra anticipata per l'istruttoria del procedimento. Il bando redatto dalla Giunta Comunale di Gela in merito all'affidamento ai pescatori dei box finanziati dalla Comunità Europea ha creato malumori. Per l'Associazione dei Pescatori, presieduta da Davide Calabrese, si tratta di un bando che determinarà figli e figli astri tra gli operatori del settore, tra chi avrà l'attribuzione del box e chi invece rimarrà senza. Una discriminazione che, secondo i pescatori, sarebbe determinata dal fatto che l'assegnazione verrà fatta in forma singola e non associativa, fomentando così le divisioni tra gli operatori del porto. Questo bando, affermano i pescatori in una nota, definisce chiaramente il carattere dispotico e fallimentare dell'amministrazione comunale. Nessuna concertazione con l'Associazione dei Pescatori, unica nel territorio come oggetto sociale, ma tutto frutto di scelte autoritarie. L'immotivato enorme ritardo ha alla fine prodotto un bando di affidamento che è un'offesa chiara ai padri di famiglia che vivono del loro lavoro di pescatori. Ancora più grave è il fatto che lo stesso bando, redatto senza alcun tavolo di concertazione con i soggetti a cui era destinato il finanziamento, nega i box a chi ha la licenza da meno di tre anni, lasciando fuori i più giovani nel momento in cui maggiormente dovrebbero essere aiutati ed in contrasto con tutte le norme di imprenditoria giovanile, nonché con i requisiti dettati dal Fondo Europeo Affari Marittime e Pesca, fondo che ha finanziato le strutture. Il bando, rimarca calabrese, costituirebbe una trappola per i pescatori che decidono di partecipare. Il bando prevederebbe infatti, oltre ad una forma assicurativa, anche la manutenzione dei manufatti in legno a carico degli affidatari, già ad oggi deteriorati senza averli ancora affidati a causa del forte ritardo da parte della Giunta. A tutto ciò va aggiunto la mancanza di acqua e luce nei box come da progetto iniziale e la mancanza dei gradini di accesso, considerato che l'ingresso si trova a 75 cm dal piano stradale. L'associazione avrebbe cercato di interloquire con il responsabile unico del progetto Torino Collura proprio per discutere di questi problemi, ma fino ad oggi non avrebbero ricevuto risposte. Il finanziamento, sostengono, destinato solo ed esclusivamente a pescatori, prevedeva anche un'attenza struttura con annessi servizi come i banchi refrigerati per la vendita del pesce, le bilance, l'idropulitrice, la macchina che produce il ghiaccio, due celle per il deposito del pesce, due colonnine per erogazione di acqua e luce ed altrettante con dotazione di salvataggio. Anche il container dei servizi igienici è inutile, essendo incompleto nel tetto e nei servizi, strutture e attrezzature dunque inesistenti. Ciò che si chiedono ai pescatori è dove siano finite queste attrezzature e a chi vorrebbero destinarle, considerato che il fondo era solo per i pescatori? Certamente, si legge ancora nel documento, la maggioranza dei pescatori non cadrà in questi tranelli e non sarà complice delle violazioni delle regole comunitarie che certamente vi sono, così come hanno già rifiutato la sola escavazione dei fondali per non buttare inutilmente i fondi pubblici. E il comitato del porto chiede immediati interventi per il dragaggio. Anche ieri un altro episodio di incagliamento. L'insabbiamento del porto rifugio di Gela continua a creare enormi problemi, una vera e propria emergenza. Il video che vi proponiamo è stato registrato ieri. Come si vede, è stato indispensabile l'intervento di una squadra di subacui per evitare che uno dei natanti della società Archimede, che gestisce il servizio di guardia ai fuochi nell'area del porto Isola dell'Eni, si incagliasse. Sono stati fissati dei palloni autoconfiabili necessari a sollevare l'imbarcazione per non farla incastrare nei bassi fondali all'imboccatura del porto. La struttura portuale, dice Ascanio Carpino, del comitato del porto di Gela, versa in uno stato deprimente. Tutto ciò non consente più neanche di far uscire i natanti di soccorso. Ci auguriamo, continua Carpino, che non succeda mai nulla di grave. Da mesi ormai si attende la firma definitiva sul protocollo che dovrebbe consentire lo sblocco di circa 6 milioni di euro finanziati da Eni per i primi interventi infrastrutturali al porto rifugio. Già lo scorso mese di agosto si sono verificati altri due episodi simili. Il giorno di vero agosto si incagliò un'imbarcazione a vela, battente e bandiera francese, lunga 13 metri, con famiglia a bordo. Alcuni giorni dopo, era il 18 agosto, toccò ad una barca a vela di 12 metri australiana con 8 persone a bordo, 4 adulti e altrettanti ragazzi. I soccorsi, in entrambi i casi, furono prestati dagli uomini della Guardia Costiera e da quelli della Polizia Nautica. Identico copione si registra dal 2012 ad oggi, da 4 anni a questa parte. Allo momento attuale gli interventi, sottoscritti in diversi tavoli tecnici, tardano ad arrivare e chi ne piange le conseguenze, lo ripetiamo ancora una volta, è la città. Sì, perché la situazione in cui versa il porto rifugio è realmente drammatica. Sono stati tanti gli argomenti trattati dal coordinamento dei comitati di quartiere di Gela che si è riunito dopo la pausa estiva di saggi e si riscontrano soprattutto in merito alla raccolta differenziata che, dice il vicepresidente Giuseppe Filetti, nonostante i proclami dell'amministrazione sembra non funzionare correttamente, creando parecchi problemi ai cittadini che con tutta la buona volontà e partecipazione notano una città ancora non pulita in modo idolio. Il problema dell'acqua, che doveva essere 24 ore al giorno, non sembra essere risolto. I cittadini chiedono maggiore sicurezza sulle strade locali, dove era riscontrato una circolazione selvaggia oltre la sosta durante le ore notturne, soprattutto in centro storico e alla lungomare, zone di Movida. Il coordinamento continua a suggerire l'istituzione di una pattuglia notturna dei vigili urbani per il controllo della città ed una sorveglianza H24 al parcheggio Arena. Una nuova proposta per regolamentare la sosta a pagamento sul territorio comunale è stata inviata dall'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale al settore di Polizia Municipale. I capigruppo, nel corso della riunione del 9 settembre, hanno trasmesso nuovamente il regolamento dando al settore un termine di 15 giorni per elaborare la relativa proposta di Consiglio Comunale. Fermo restando, sottolineano che in caso di inadembienza si procederà con sanzioni disciplinari previsti per legge. Il richiamo è stato firmato anche dal segretario generale Pietro Amorosia. E ora occupiamoci di due arresti eseguiti dai carabinieri a Gela e a Riesi. Nonostante fosse domiciliare, andava a passeggio per le vie cittadine. Individuato dai carabinieri di Gela è stato arrestato con l'accusa di evasione. Protagonista è il giolese Fabrizio D'Aleo, 21 anni, pregiudicato. Ad intercertarlo sono stati i militari dell'arma durante un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati. Alla vista dei carabinieri D'Aleo ha tentato di allontanarsi ma è stato prontamente fermato. Una immediata perquisizione personale ha consentito di rinvenire occultata in una tasca della sostanza stupefacente. Si tratta di un grammo e mezzo circa di hashish. I militari della sezione trademobile hanno inoltre eseguito una perquisizione domiciliare. E a casa il ragazzo deteneva un altro grammo e mezzo dell'identica sostanza stupefacente. Per questi motivi D'Aleo è stato deferito anche per possesso di droga. E a Riesi, un 23enne, è stato arrestato con l'accusa di furto in abitazione. Lui è Giuseppe Innaco. I carabinieri sono stati alertati dalla chiamata di un cittadino al numero di emergenza 112 che segnalava la presenza di un soggetto che era intento a fuggire sui tetti dei palazzi della centralissima Via della Pace. Giunti sul posto e dopo essere saliti sui tetti delle case, i militari hanno fermato il ragazzo che poco prima aveva asportato alcuni monili in oro e denaro da un'abitazione privata. I carabinieri hanno avuto serie difficoltà per sottrarre il giovane arrestato dalle ire dei residenti della zona vittime di furti a catena negli ultimi giorni. Il valore della refurtiva ammonta oltre 1000 euro. Giuseppe Innaco è stato trovato in possesso anche di una cartuccia calibro 22 illegalmente detenuta. Il gruppo scout Gesci Gela 5, nel ricordare la nascita e la morte del beato martire padre Pino Puglisi, a cui ha dedicato il gruppo scout Gesci nella parrocchia Santa Lucia di Gela, celebra giovedì 15 settembre alle 19 una santa messa in suffraggio del parroco palermitano ucciso dalla mafia. Sarà l'occasione per il gruppo scout Gesci Gela 5 per avviare il nuovo anno sociale. Le iscrizioni saranno aperte a partire da domenica. Mercoledì 12 ottobre è l'ultimo giorno utile per poter presentare all'ufficio di protocollo generale della comune di Gela l'istanza per ottenere l'abbonamento e il contributo per il trasporto scolastico. Nel primo caso la domanda per accedere al servizio gratuito va presentata dalle famiglie degli alunni delle scuole primaria e secondaria residenti a Femmina Morta, Roccazzelle e Borgo Manfria. Termini aperti anche per i nuclei familiari degli studenti che si recano in un comune diverso da Gela per frequentare le scuole secondarie di secondo grado. L'avviso, il formulario e la documentazione da produrre, ha spiegato l'assessore comunale ai servizi sociali di Giabela, si possono scaricare dal sito internet del comune, mentre per maggiori chiarimenti gli uffici del settore sono a disposizione dei cittadini. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiane riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in tetrapack vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e nonna, buste, sacchetti zucchero e farina, scioper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, secondo parte del giornale, dal 17 al 25 settembre prossimi si terrà Match It Now, la settimana nazionale per la donazione di midollo osseo. L'evento rientra nella cornice della giornata mondiale del donatore di midollo osseo che sarà celebrata in tutto il mondo. Anche Gela scende in piazza, appuntamento sabato 24 settembre in Viale Corte Maggiore a Macchitella. L'iniziativa porta la firma di ADMO, preseduta da Giacomo Giurato, e da ADOCES Sicilia Ollus, preseduta da Carmela Calleri. È previsto per domani e giovedì 15 settembre uno spettacolo fotografico organizzato dall'Archeoclub di Gela, preseduto da Francesco Russello. L'evento si svolgerà a partire dalle 21 e 30 sul sagrato laterale della Chiesa Madre. Alcune immagini proietteranno nella retrospettiva dell'ultimo secolo la storia e gli avvenimenti che hanno interessato la nostra città da Terra Nuova a Gela. Una serie di cartoline e foto d'epoca inedite della ricca collezione di Nuccio Mulè e presentate dallo stesso faranno rivivere l'atmosfera di un tempo dall'Ottocento ai giorni nostri. Sono troppo pochi i cassonetti della differenziata, questa sembra essere una delle considerazioni che si sentono fare più spesso da quando è partito il nuovo piano dei rifiuti. A fronte dei 1040 cassonetti distribuiti in città della indifferenziata, per fare la raccolta differenziata ce ne sono soltanto 750, alcuni dei quali posizionati lontano ad abitazioni dove vivono soprattutto gli anziani. Allora perché non comprarne di nuovi? Due le ragioni che lo impediscono, oltre al danno anche la beffa. Infatti tutto ciò che riguarda il pianeta di fiuti è a carico dei contribuenti, dunque anche per comprare nuovi cassonetti si dovrebbe aumentare l'atari. La seconda ragione è data dal fatto che il nuovo bando ponte, se sarà attuato per un anno, nei quartieri del centro storico sarà infatti messo in atto il porta a porta, quindi necessiteranno meno cassonetti ed è probabile che i 750 al momento disponibili e troppo pochi diventeranno sufficienti. Oltre alle stime di un minimo incremento della raccolta nel mese di luglio potrebbe anche essere uno dei motivi del mancato decollo l'esiguo numero dei contenitori per la raccolta stessa. Intanto l'assessore a ramo Vito Margherita ha fatto una richiesta al lato per poterne avere degli altri sempre in prestito, magari dismessi, da quei paesi che fanno già il porta a porta tappeto. La sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e dei povedenti Ollus di Caltanissetta organizza a Gela uno screening oculistico gratuito con la collaborazione di un oculista e con l'ausilio delle apparecchiature in dotazione ad una unità mobile oftalmica allo scopo di sensibilizzare la comunità sull'importanza del controllo periodico e la salute degli occhi. L'unità mobile messa a disposizione dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti è presente in piazza Umberto I oggi e domani. Le visite saranno effettuate lo ricordiamo gratuitamente da un medico oculista a chiunque si presenti dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. È previsto per sabato 17 settembre prossimo alle 18 nella sala Don Pino Puglisi della Casa del Volontariato di Gela in via Ossidiana il convegno Dignità, Sovranità e Moneta promosso dalla Casa del Volontariato, dal CESVOP, dalle associazioni Formica Operosa, Servirti, Fenice del Sud, Gela Famiglia, Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo, Sete di Giustizia e Qui Europa. Relazioneranno Sergio Basile, presidente di Sete di Giustizia e direttore di Qui Europa e Nicola Arena, componente della Scuola di Studi Giuridici e Monetari Giacinto Auriti. Il convegno sarà moderato da Rocco Pardo dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela. Sarà presente anche il Vescovo di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. E adesso parliamo di teatro. Torna in piazza la compagnia teatrale antidoto di Gela. Ultimi appuntamenti prima di tuffarsi nella stagione autunnale che vedrà Emanuele Giammusso, Guglielmo Greco e il resto del cast salire sul proscenio del teatro di Macchitella. È già in corso la stesura della nuova programmazione. La stagione scatterà i prossimi 23 e 24 novembre, prevista l'esibizione anche di Pippo Franco. Dicevamo degli appuntamenti estivi, appuntamenti in Piazza Roma. La rassegna La Gorgone del teatro antidoto in Piazza Roma continua il 15 e il 16 perché come sapete per il maltempo delle commedie sono state rimandate. Allora il 15 abbiamo la compagnia di San Cataldo, il 16 invece c'è la compagnia L'Antidoto Ci Siamo Noi con la grandissima e bellissima commedia Servizio in Camera e ci sarà anche il gran calà di premiazione per tutte le commedie che hanno partecipato alla ventesima edizione della Gorgone, premio Vincenzo Pace. Perciò vi aspetto in Piazza Roma il 15 e il 16. Continua nel quartiere residenziale di Macchitella la rassegna dell'Edstrempe promossa dal direttore artistico Francesco Castellana con Anna Salsetta alla produzione esecutiva e con Francesco Trenito alla produzione tecnica. Domani alle 22 si esibirà Anna Bonomolo accompagnata da Diego Spitaleri. Ed in conclusione del telegiornale vi ricordiamo che questa sera alle 21 trasmetteremo la registrazione della decima edizione del Festival del Golfo. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.